Salve e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione meteorologica locale a cura di meteocalabria.net. Continua l'azione del maltempo sulla nostra regione a causa di correnti fresche provenienti dai settori orientali, ma il rinforzo dell'alta pressione garantirà condizioni meteo e miglioramento nel weekend. Venerdì 24 aprile ci attendiamo una giornata all'insegna della nuvolosità sul comparto titrenico e il basso Ionio, con piogge e rovesci sparsi che interesseranno ancora la Calabria centro-meridionale fino al tardo pomeriggio. Temperature in ulteriore leggera pressione. Sabato è previsto un generale miglioramento ovunque, ma permarrà una nuvolosità diffusa lungo le coste titreniche pur senza fenomeni. Temperature in lento rialzo. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento e al prossimo aggiornamento. Grazie.